Appena faccio il fumo, le api si distraggono dal pungerci, dal darci le punture, e si gettano nel favo per raccogliere il miele. Località Laverna, comune di Umbertide. Alberto Ciampelli ci guida tra i 150 alveari della sua piccola attività. Questa è la resina, un puntino blu, vuol dire che è stata la resina dell'anno scorso. In Umbria ci sono 33.000 alveari, un volume d'affari per le vendite di miele di 4 milioni di euro. Dei 1.300 apicoltori della regione, solo 5 vendono all'ingrosso. Gli altri, come il signor Alberto, commercializzano i loro prodotti nei mercati locali. Quest'anno c'è stata una mortalità superiore a quella degli anni passati. Si parla del 30-35%. Una moria dovuta ai parassiti killer e soprattutto ai cambiamenti climatici. Ha fatto caldo, si sono sviluppate, i fiori sono cresciuti anche in anticipo. Se adesso fa freddo, loro non possono uscire. Sotto i 10 gradi non escono dall'alveare. In Italia, negli ultimi tre anni, la produzione made in Italy di miele si è quasi dimezzata. Qui, nell'Alta Valle del Tevere, le coltivazioni di tabacco e le centrali di biogas hanno dato un colpo letale alla biodiversità. La cultura del tabacco, con i diserbi, distruggono tutte le piante anche selvatiche che danno dell'ottomanettare. Non c'è un'apicoltura con una biodiversità di fiori che consente alle api di svilupparsi sia per il nettare che per il polline. La crisi del settore non ha scoraggiato i giovani, che si sono pian piano avvicinati ad una tecnica di allevamento secolare. Secondo Legambiente, le nuove leve si avvicinano a questo mondo con preparazione maggiore rispetto al passato, privilegiando metodi biologici e con un occhio di riguardo per l'ambiente. Forse i nuovi apicoltori hanno fatto loro il pensiero di Einstein. Se un giorno le api dovessero scomparire, all'uomo resterebbero solo quattro anni di vita.